E fatemi godere un po' di ozio, un po' di nulla facenza, qua tutto questo setup, camera, lusso, vista, mare... E che cazzo, ho lavorato undici mesi per arrivare fin qua, e che minchia, fatemelo godere, una volta ogni tanto, sembra lavorare, sembra fare... Buongiorno, buongiorno, dottori, attenzione, guardate che ginico, sono sexy, sono sexy. Buongiorno a tutti, dottori e dottoresse, in queste vesti, scusatemi ma dovevo farlo, cioè devo approfittare dell'ambiente, devo approfittare di tutto, voglio fare un video in accappatoio, mi fa sentire molto più, eh? Molto più? Che cazzo ne so? Molto più, mi fa sentire molto più. È passato praticamente un anno da cosa? Dal fatidico giorno del mio licenziamento. In realtà non proprio, mi sono licenziato ufficialmente il primo gennaio 2022, però insomma, verso ottobre già più o meno l'aria era un po' quella che tirava. E quindi, come ogni mese, andiamo a fare il recap mensile per capire come sta andando la mia vita. Se anche voi vorreste intraprendere una vita da youtuber, da influencer, da uno che non ha voglia di lavorare e trovarsi un lavoro vero, potete farlo, potete farlo, vi spiego come si fa. Allora, andiamo un po' a vedere questo mese cosa offre. C'ho innanzitutto una cosa importantissima da dirvi, ma ve la dico adesso, prima di tutto il video, o a metà, non lo so, decideremo. Parte finanziaria, come sempre, iniziamo da quella. A parte finanziaria, in realtà, vediamo se riesco a trovare le parole giuste per dirvelo. Sono povero come la me... No, in realtà, di nuovo, mese dove non ho guadagnato nada, zero, praticamente. Perché? E qua vi introduco il discorso di oggi, poi tranquilli andremo a vedere la mia evoluzione sui social, se mi interessa, anche perché c'ho qualche novità frizzantina, però non ci svestiamo, teniamo un certo costume, un certo rigore. Quindi, dopo vi faccio vedere tutti i social. Però oggi ho guadagnato... Sì, oggi, questo mese ho guadagnato zero, di nuovo. Come mai? Perché, signore e signori, ho capito una cosa importantissima e non ve lo dice uno qualsiasi. Ve lo dice una persona che è stata rivelazione del torneo di paddle. Rivelazione. Come buffone del villaggio. Cioè, mi son vestito da Superman per giocare a questo torneo di paddle. Ma in realtà, quel premio cosa sa significare? Che sono stato un po' innovativo, un po' così pazzerello. E qui ho avuto, di nuovo, l'occasione di riparlare con tanti content creator molto forti. Cioè, cito Yachidale tra tutti, perché qua era quello un po' più grosso. Una persona veramente stupenda. E ho appreso altre importanti lezioni, che in realtà magari già conoscevo, però ci tengo ad approfondire, che è la questione della reputazione. Oh, sempre più la conferma, già lo sospettavo, ma ovviamente più le cose sono confermate, più di entrare in testa, più le applichi, che tenere una sana reputazione è la cosa più importante in assoluto. Nella vita, sicuramente, in generale, ma se da dipendente, anche se sei uno stronzo, ti pagano a fine del mese, da content creator, se sei uno stronzo, dopo pochi mesi, eh, non fai più niente, non lavori più con nessuno. Perché si smette di collaborare con te, perché le persone, la tua community, perde fiducia. Ieri sera, tra l'altro, facevo un giro un po' su YouTube e ho trovato questo canale che faceva recensioni di ipotetici guru, finti trader, eccetera, eccetera. Ed è stato bellissimo notare due, due cose completamente opposte. Cioè, lui parlava male in un video sia di un guru che di una persona che invece io ritengo essere molto competente. Però lui parlava male di tutte e due. Come mai? Perché, diciamo, la sua concezione era che tutti e due dicevano delle cose un po' da scamero, un po' truffaldine, un po' banalotte, errate. Quando su di uno ero d'accordo e andavo a leggere i commenti, vedevo che effettivamente tutti insultavano quel guru, capivo che effettivamente la reputazione di quella persona era bassissima. Cioè, non c'era nessuno che lo difendeva, ma il 99% diceva ha ragione, è un cretino, non sa di quello che parla... Dall'altra parte, quello che invece io ritenevo competente, quindi che trovavo ingiusto che avesse insultato, effettivamente nei commenti il 99% lo stava difendendo. Dicevano guarda che hai preso un video sbagliato, guarda che ti sei fossilizzato su quell'idea, ma se in realtà lo conosci non è proprio così, hai utilizzato un po' delle cose che ti facevano comodo per parlare in questo modo, ma in realtà lui è molto competente. E quindi ho notato che proprio questa differenza di reputazione tra chi non si è mai venduto, ha sempre cercato di guardare il lungo periodo, e chi invece guarda il breve, accetta un sacco di compromessi e sostanzialmente non è trasparente. Quindi già io, come sapete, amo la trasparenza, a volte anche troppa trasparenza, però più ad avanti più capisco quanto è fondamentale, cioè non è solo un valore che io mi porto dentro in quanto Marco Costanza, ma è un valore necessario assolutamente per il mio lavoro. E quindi, come avete ben potuto notare, ho quasi totalmente azzerato le collaborazioni. Perché? Perché non ho più trovato qualcosa di interessante dove non dovessi accettare il compromesso per portare quel contenuto. In passato, eh, purtroppo, ve l'ho detto, non l'ho mai nascosto, sento che dovevo mangiare, ho portato dei video di cui, che merda, vabbè, parlo di sta cosa giusto perché mi pagano, se no non ne avrei minimamente parlato. Ora non lo faccio più. Cioè ora sono disposto a mangiare terriccio pur di sopravvivere, ma la reputazione mai più intaccata. Mai più. Come si fa? Si fa che ci si deve ingegnare per trovare modi di creare contenuti in linea col mio essere che non intacchino la reputazione. Vi faccio l'ultimo esempio, poi passiamo ai social così non vi disturbo altro, però se uno è interessato a far questa vita e prende un po' Costanza Marco come esempio, almeno sa il mio pensiero. E' presente presente nel trading? Cioè io posso fare il 100% per mille giorni di fila, essere praticamente miliardario, ma poi mi basterà perdere il 90% di quello che ho guadagnato e quasi torno povero come ero prima. Cioè la fatica che faccio per crescere è completamente sproporzionata rispetto alla fatica o alla facilità con la quale si perde tutto. Quindi la reputazione è la stessa cosa. Si guadagna molto poco alla volta perché di costruire una community, gente che ti difende, è molto difficile. Poi le persone sono molto scettiche, giustamente fanno bene e quindi smontare delle credenze brutte molto più difficile che magari costruire una credenza così. Ci siamo capiti. E quindi, dottori, questo è quanto. Mi raccomando, lavorate sulla vostra reputazione, cercate di non accettare minimamente alcun compromesso. Capisco che a volte è solo difficile, a volte è impossibile perché qualcosa dobbiamo portare a casa e quindi mi raccomando però tenete sempre bene in mente questa cosa. Cioè non cadete in guadagni cose di breve periodo perché non vi porteranno da nessuna parte e lo vedrete col tempo che i risultati invece si accumulano, si fa delle cose fatte bene. Ma fatta questa breve introduzione che in realtà era solo una scusa per dire non sto guadagnando niente, non mi caga nessuno, sto finendo i soldi, passiamo al lato social e vediamo perché lì invece sono delle novità un po' più frizzantine. Allora, signore e signori, partiamo da, ma sì, partiamo da Instagram che ce l'abbiamo qua. Crescita, come sempre, lenta ma costante e costanza è costante. E la cosa bella, signore e signori, è che ci stiamo avvicinando ai 9000. Ora abbiamo ottobre, novembre e dicembre, tre mesi per fare 1300 follower, contati male. Ce la faremo? Io qua chiedo aiuto a voi. Ce la faremo? Non lo so. Secondo me sì. E adesso vi faccio vedere perché. Secondo me sì. Infatti notiamo un trend, principalmente rialzista, anche per quello che riguarda YouTube. Qui abbiamo 6700 iscritti, quindi siamo un po' indietro rispetto a Instagram, però le visualizzazioni sono in aumento. Questo perché? Perché sto pubblicando molti più video rispetto a prima. E quindi anche gli iscritti, di nuovo, continuano a salire in maniera lenta ma costante. Vediamo se riesco a farvi vedere, tipo, gli ultimi 90 giorni. Generalmente, vedete, i miei uno, due, tre, quattro iscritti al giorno, lì si fanno. E quindi anche YouTube tanta tanta roba. In più YouTube, non so se avete capito come l'ho strutturato, ma lunedì, mercoledì e venerdì video di aggiornamento che registro in mezz'ora e tanti saluti. Martedì e giovedì video di approfondimenti, di spiegazioni. Sabato pausa, domenica video leggero. Un video così, dove parlo del più e del meno, cos'è poco inerenti alla finanza, per tenere un po' più di anche personal branding. E tanta roba però, tanta roba, tanta roba. Twitter, ragazzi, stiamo crescendo bene anche su Twitter. Siamo arrivati a 1800 followers. È un social tenuto molto da parte, però credetemi che può dare tanto Twitter. È un bellissimo social. Poi ci sono tutti i miei amici massimalisti sopra e quindi non posso mancare da Twitter, pieno di ironia. Vi passo al podcast, perché vediamo che il podcast, anche qua, trend crescente. Ora, dopo agosto, che era un mese estivo, stiamo un po' risalendo con settembre sugli ascolti, quindi non posso che essere contento. Ma le vere novità sono queste due. Cioè, allora, tolto Telegram, che stiamo salendo, abbiamo avuto un'impennata anche su Telegram dopo la riapertura. Perché abbiamo avuto un'impennata negli ultimi giorni? Perché, signore e signori, sono tornato a fare cinque ore di live al giorno su Twitch. Sto creando ogni mattina delle live tipo di costadi, co-working. Cioè, io mi metto lì, faccio i miei lavori, edito i miei video, registro i miei video, mi scrivo i copi, faccio lì, insomma, tutto quello che c'è da fare. E nel frattempo parlo con la chat, parliamo delle notizie di mercato, guardiamo appunto gli investimenti, faccio vedere proprio in diretta come opero, cosa faccio. Quindi totale trasparenza sulla mia attività lavorativa, a 360 gradi, dai contenuti al trading, agli investimenti, a tutto quanto. Dalle sette e mezza a mezzogiorno e mezza, ogni mattina. Ultima rivelazione dell'anno, mettiamoli qua, ultimi 28 giorni, signore e signori, TikTok. TikTok. Non lo so, non lo so. Qua mi viene un po' di commozione perché sarà sei mesi che dico che sarei tornato prima o poi ad affrontarlo seriamente. Finalmente ce l'ho fatta. Pubblicazioni costanti, pubblicazioni direi anche interessanti, infatti guardate come sono salite mediamente le views. Ha tolto poi un exploit, ha avuto un video che è diventato virale, ha fatto 400.000 visualizzazioni circa, e quindi lì mi ha portato un botto di follower. Cioè guardate, se io metto gli ultimi 60 giorni, la crescita dei follower. Cioè guardate come diavolo è andata in impennata dalla settimana in cui ho detto ora mi rimetto seriamente. Questo ragazzi è il potere di far le cose con cognizione. Ho smesso di fare i contenuti perché li dovevo fare e ho iniziato a farli perché volevo farli. Non pubblico più un contenuto e poi lo spargo su tutte le piattaforme, ma ogni piattaforma ha il suo contenuto che va bene per lei e quindi da una parte si potrebbe pensare che è meno ottimizzato perché devo fare più contenuti. In realtà mi sono organizzato talmente meglio che io ho molta meno fatica a fare tutti questi contenuti rispetto a prima che ne facevo meno e che però hanno anche più risultati. Quindi sono veramente iper contento di come sta andando. Ho ritrovato un po' il mio flow e quindi vediamo per quante settimane o mesi durerà questo flow, però tanta tanta roba. I risultati direi che si vedono. Dottori, dottoresse, anche per il mese di settembre è tutto. Non dovrei aver dimenticato nulla. Io vi saluto, vi ringrazio come sempre per la visione. Scusate un po' la pagliacciata qua dell'asciugamano, dell'accappatoio, però andava fatta. Siamo qua, hotel 5 stelle. Poi, scusa, guardate qui, io voglio dire, guardate qua che è vista, guardate qua dove minchia sono, voglio dire, sfruttiamola, sfruttiamola questa camera. Dottori, anche per questo mese è tutto. Vedremo se il prossimo mese continuerò bene con questo trend, avrò mollato, se anzi avrò spinto, saremo ancora più in crescita. Buona giornata a tutti. Scendo a fare colazione con gli altri. Tra l'altro, io non vi ho detto perché sono qua. Vabbè, se seguite YouTube, seguite gli altri video, sapete perché sono qua. Vabbè, ma poi vi ho fatto vedere il premio. Non lo so, un po' di indizi ci sono. Buona giornata a tutti e a presto.